Sono direttore d'agenzia, il mio obiettivo è soddisfare le esigenze dei clienti e guidare il team al raggiungimento dei nostri risultati sempre in prima linea. Sono in BMP dal 2016 ed ho svolto il ruolo di gestore prospect e gestore small business. Ho avuto l'opportunità di essere inserito nel percorso first per fare il direttore ed eccomi qua, da gennaio 2019 sono operativo nel nuovo ruolo. Da ragazzo lavoravo in un albergo e andavo a fare i versamenti all'agenzia 13 di BNL e sognavo di lavorare lì. 15 anni dopo è stata la mia prima agenzia BNL. Tutto vero. Il desiderio più grande è quello di potermi misurare in diversi ruoli all'interno del gruppo. Sono pronto ad affrontare qualsiasi sfida con il sorriso. Il cambiamento è un'opportunità.